Cari amici, siamo qua per un'altra speriamo interessante diretta, come sempre speriamo che l'audio stia funzionando. Oggi affronteremo ben due tematiche, una un po' di sfuggita e l'altra speriamo invece di essere più esaustivi. Prima tematica, purtroppo è una cosa che non volevo in realtà affrontare oggi, ma dal momento che coinvolge molte persone devo farmi un accenno. Cosa fare nei momenti di bassi energetici? I momenti in cui ci sembrano di non avere energia, i momenti in cui ci sentiamo abbandonati, soli, depressi. Noi in quel momento ci identifichiamo completamente con la nostra mente, con il nostro stato attuale. In realtà è normalissimo perché tutti, essendo umani, affrontiamo dei cali di energia. Io ricordo che durante il cammino di Santiago arrivavo a sera, distrutto, la prima volta, e ogni sera pensavo che sarei tornato a casa il mattino successivo. Poi cosa succedeva? Che non tornavo la sera stessa. Mi dicevo, aspetta. Aspettavo, la mattina, la mattina vedevo questa nebbiolina meravigliosa, questi sentieri che si perdevano nel nulla, la gente che partiva, io mi sentivo meglio perché me l'ho riposato e partivo anch'io. E questo è quello che dovete fare anche voi. I bassi energetici è normalissimo che accadono, ma tu non devi essere dentro il tuo tono dell'umore. Tu devi sempre guardarti da fuori. Sei in crisi, vuoi piangere, non ce la fai. Bene, va tutto bene. Osservati, osserva la tua crisi, osserva la tua debolezza, ma non prendere decisioni. Brava Stefania. Infatti non devi proprio fare nulla, devi solo aspettare che aspetti, perché come il tuo picco di energia è andato in basso, tu aspetta. Non prendere decisioni che in quel momento sarebbero catastrofiche, che genererebbero un circolo karmico vizioso, perché quando tu prendi una decisione che hai bassa energia generi tutta un'altra serie di situazioni spiacevoli. Quindi non prendere decisioni. Osserva la tua tristezza e aspetta che passi. Quando finalmente, e non passa molto, non ci vuole tanto perché l'energia umana è molto instabile, ci vuole un attimo a scomparire, un attimo a tornare. Appena avrai di nuovo un attimo di stabilità, di equilibrio, puoi tornare a riprendere le tue decisioni e fare le tue cose. Quando ti senti male, osservati, ma non stare dentro il tuo dolore. Non dire, oddio, io sto morendo. È solo un momento di calo di energia. In caso, l'energia torna. Non rendi in basso. Questo è quello che volevo premettere, perché è un tema che avete sollevato in molti e che mi sembrava importante dire, anche perché le persone tendono a identificarsi molto con la propria mente e a non guardarsi dal di fuori. Ricordate che è tutto un film quello che vedete. È tutto un film nella vostra mente. Quando avete poca energia, vedete depresso. Quando siete in uno stato euforico, vedete tutto gioioso. Infatti, anche prendere decisioni in uno stato di euforia, non va bene, assolutamente. Tu devi prendere decisioni in stato d'equilibrio. Le decisioni prese quando sei da un lato o dall'altro della bilancia vanno sempre male. Ora vediamo la giornata. Allora, differenza tra l'amor proprio e il orgoglio. Ci sono tantissimi link che sostanzialmente si possono riassumere così. Ah, il tuo partner ti fa male, mandalo a fanculo. Sostanzialmente. Ma che hanno lontanamente un senso, perché in effetti è importante comunque saperci far rispettare, porre dei limiti. L'altro non deve prevaricare la nostra identità, non deve disturbare la rincorsa nei nostri sogni. L'altro ci deve accompagnare verso i nostri sogni, non può ostacolare i nostri sogni. Però un conto è dire questo, un conto è dire, ah, quello mi ha fatto un torto, allora lo mando a fanculo. Ovviamente non funziona così. Se sei innamorato, l'amore è sempre disposto a piegarsi. Anzi, l'amore viene apposta perché tu, la tua corazza che ti sei messo addosso, si pieghi, si fonda e si bruci per far sì che possa emergere la tua vera identità, quella che hai nascosto perché avevi paura, perché ti sentivi fragile, perché ti sentivi debole. Ti sei messo una corazza, il che è accettabilissimo, perché anche l'ego è uno strumento. A volte è necessario difendersi, se no non saremo più qua. E' importante difendersi, ma proprio è anche importante sapersi togliere quella corazza al momento giusto. Perché quando tu sei blindato dall'ego, è vero che nessuno ti può far male, ma è anche vero che tu sei impossibilitato sia ad amare che ad essere amato realmente. Quindi quella corazza va bene per quando siamo in difficoltà, ma poi va tolta. Ecco, io adesso, sapete, faccio sempre discorsi a braccio perché onestamente non riesco a leggere cose altrui, a concentrarmi su cose altrui, a me piace spaziare, non amo essere circoscritto in nessun ambito. Però quando c'è una cosa che esprime perfettamente un concetto, sarebbe anche sciocco modificarla. Io allora vi leggo un frammento di Osho, una storiella, ma leggendola penso che in 7-8 minuti ce la caviamo. Io vi pregherei veramente di ascoltarla perché è splendida. È splendida ed esaustiva. Sono quelle cose a cui non c'è nulla da aggiungere, vanno solamente ascoltate e per chi le può capite. Tutto qua. Mi hanno raccontato la storia di un vecchio albero, la cui chioma maestosa svettava alta nel cielo. Al tempo della fioritura danzavano intorno a lui farfalle di ogni forma, colore e dimensione. Quando era a carico di fiori di ferrutti, gli uccelli venivano da paesi lontani per cantare protetti e dai suoi rami, che sembravano mai aperti a benedire chiunque veniva a sedersi alla loro ombra. Un bambino veniva spesso a giocare sotto l'albero e il grande albero si affezionò a quel bambino. Tra il grande e il piccolo è sempre possibile l'amore se il grande non è consapevole di essere grande. E l'albero non sapeva di essere grande, soltanto l'uomo ha questo tipo di percezione. Chi è grande si preoccupa sempre di espandere il proprio ego, ma nell'amore nessuno è grande o piccolo. L'amore abbraccia chiunque gli si avvicina. Ebbene, l'albero si è affezionato al bambino. A punto di essere più alti ogni volta che il piccolo veniva a giocare vicino a lui, perché potesse prendere i suoi fiori e cogliere i suoi ferrutti. L'amore, al contrario dell'ego, è sempre pronto a inchinarsi. L'amore, al contrario dell'ego, è sempre pronto a inchinarsi. Se ti avvicini all'ego, i suoi rami si tenderanno ancora di più verso l'alto, si irrigidirà per non permetterti di raggiungerlo. Ogni volta che il bambino andava da lui, l'albero invece abbassava i rami, ed era molto contento quando il bambino coglieva dei fiori. L'intero suo essere traboccava dalla gioia dell'amore. L'amore è sempre felice quando può dare qualcosa, mentre l'ego è sempre felice quando può prendere. Il bambino crebbe. Talvolta dormiva nel grembo dell'albero, talvolta ne mangiava i ferrutti e talvolta si ornava come una corona di fiori, e si comportava come un re della giungla. Si diventa un re quando ci si adorna con i fiori dell'amore, ma si diventa povero e infelici quando sono presenti le spine dell'ego. Vedere il bambino incoronato di fiori che gli danzava intorno rompiva l'albero di gioia. La sua chioma annuiva nell'amore e cantava nella brezza. Ma il bambino crebbe ancora. Cominciò ad arrampicarsi sull'albero per dondolarsi sui rami. L'albero si sentiva felice quando il ragazzo rosava sui suoi rami. L'amore è felice quando dà conforto a qualcuno. L'ego è felice solo quando procura dolore. Con il passare del tempo, il peso di mille doveri avvolse quel ragazzo. In lui crebbe l'ambizione. Aveva esami da dare, aveva amici con cui conversare e andare in giro. Perciò non veniva più così spesso. Ma l'albero lo aspettava ansioso. Lo invocava alla profonda dell'anima. Vieni, vieni, ti aspetto. L'amore è in grado di attendere giorni e giorni. L'albero aspettava. Si sentiva triste quando il ragazzo non veniva. È normale. Perché l'amore è triste quando non può condividere. L'amore è triste quando non può dare. L'amore è grato quando può condividere. Quando può arrendersi totalmente, l'amore raggiunge la vetta della felicità. Notate, è importante, eh? L'amore, quando è felice, quando è che raggiunge la vetta della felicità, quando può arrendersi. Non quando può affermarsi e dominare. Quando può arrendersi. Più il ragazzo cresceva, meno veniva dall'albero. L'uomo adulto e le cui ambizioni aumentano sempre di più, trova sempre meno tempo per l'amore. Che tristezza. Il ragazzo l'aveva preso dalla vita mondana. Un giorno passò vicino all'albero e questo gli disse, ti aspetto ogni giorno, ma tu non vieni più a trovarmi come una volta. Il giovane disse, perché dovevi venire a trovarti? Cos'hai da darmi? Hai dei soldi? Non è un gran bisogno. L'ego ha sempre bisogno di qualche motivazione per agire, per muoversi. Mentre l'amore esiste senza scopo. L'amore, il fine a se stesso, esiste e basta. L'albero, sorpreso, disse, verrai soltanto se ti darò qualcosa? Tutto ciò che ti trattiene non è mai amore. L'ego accumula, ma l'amore dona incondizionatamente. Noi non soffriamo di questo male e viviamo felici, disse l'albero. Su di noi si schiudono i fiori e crescono i frutti. Noi regaliamo l'ombra che reca ristoro, danziamo nel vento e cantiamo canzoni al cielo. Uccelli innocenti saltellano e cinguettano sui nostri rami, sebbene non abilano denaro da offrire. Il giorno in cui avremo bisogno di soldi ci ridurremo ad andare ai templi come fate voi deboli umani, per imparare come ottenere la pace, per imparare come trovare l'amore. Noi non abbiamo alcun bisogno di denaro. Il ragazzo chiese, e allora perché dovrei venire da te? Io andrò solo la dolce denaro, perché ne ho molto bisogno. L'ego chiede denaro perché vuole potere. L'albero ci pensò su, poi disse, non andare altrove, mio caro. Cogli la mia frutta e vendila, così otterrai denaro. Il ragazzo ne fu subito felice, si arrampicò dai rami e accorsi tutta la frutta, anche quella cerba. L'albero si sentiva felice, sebbene alcuni dirgutti si fossero rotti, anche se aveva perso alcune foglie e molti rami si erano spezzati. L'amore è felice anche nel dolore, ma neppure dopo aver ricevuto qualcosa l'ego è felice. Attenzione, l'amore è felice anche nel dolore, ma neppure dopo aver ricevuto qualcosa l'ego è felice. Se tu ami una persona, tu sei felice. Il sacrificio in amore non esiste perché lo fai con gioia, ma per amore tu fai delle sciocchezze assolute che una persona sana di mente non farebbe mai. Ma in questo caso è un sano di mente, un sano di mente triste. Una persona troppo equilibrata, fa qualsiasi cosa e non lo avverte come sacrificio, perché l'amore stesso quello trascina. Non c'è sacrificio, anzi c'è la gioia di fare quello che stai facendo per la persona che ami. Riprendiamo. L'ego vuole sempre di più, dopo aver ricevuto qualcosa l'ego è felice. Il ragazzo prende e se ne va, senza nemmeno ringraziare l'albero. E adesso vediamo che succede. Per molto tempo il ragazzo non torna più, ovviamente. Ora aveva il denaro ed era occupato a farne altro con quello guadagnato. Aveva completamente dimenticato l'albero. Passarono gli anni e l'albero era molto triste. Desiderava il ritorno del ragazzo, come una madre cui i seni sono colmi di latte, ma non ha un figlio da allattare. Tutto il suo essere desidera il figlio, lo cerca follemente perché possa venire ad alleggerirla. Tale era il grido interiore di quell'albero. Il suo intero essere era tormentato. Dopo molti anni, ormai adulto, il ragazzo tornò. L'albero disse, vieni figlio mio, vieni ad abbracciarmi. Ma l'uomo rispose, basta con questi sentimentalismi. Quelli erano giochi da bambino. Ora non sono più un bambino. L'ego considera l'amore una follia. È soltanto una fantasia infantile. Verissimo. La mente, infatti, che vuole solamente sopravvivere, considera l'amore la cosa più pericolosa che possa esistere. Perché tu per l'amore potresti mettere in pericolo la tua sopravvivenza. Per l'amore potresti fare delle grandissime sciocchezze. La mente non può tollerare l'amore. Perché mette la macchina biologica in pericolo. Quindi mente e amore saranno sempre in contrasto. Ma l'albero lo invitò ancora. Vieni, dondola sui miei rami. Vieni a danzare con me. Vieni a giocare. Ma l'uomo insistette. Ma basta con questi discorsi inutili. Sto cercando una casa. Me la puoi dare? L'albero esclamò. Una casa? Io non ho bisogno. Soltanto gli uomini ne hanno bisogno. Nessun altro all'infuori dell'uomo vive in una casa. E avete osservato come è ridotta forza di restare segregato fra quattro mura? Più è grande la casa, più è piccolo l'uomo che la abita. Questa la segnate, verrà? Poi ne facciamo un link. Noi non stiamo nelle case. Ma puoi tagliare e portavi i miei rami. Con questi potrei costruirti una casa. Senza perdere tempo, l'uomo preso una scura e tagliò tutti i rami dell'albero. Ora l'albero ha soltanto un tronco, nudo e spoglio. Ma l'amore non si preoccupa di queste cose. Anche se le sue arti vengono tagliate e donate all'amato, l'amore è generoso. L'amore è sempre pronto a donare. L'uomo non si preoccupò neppure di ringraziare l'albero. Costruì la sua casa e di nuovi giorni divennero anni. Il tronco, questo è rimasto l'albero, solo un tronco, aspettò e aspettò. Voleva chiamare l'amato, ma non aveva più né rami né foglie per dare forza alla sua voce. Il tempo passava ululando, ma l'albero non riusciva neppure a donare al vento un messaggio. Eppure la sua anima anelava, echeggiando un'antica preghiera. Vieni, vieni, mi letto, vieni. Ma non successe nulla. Il tempo passò e l'uomo era ormai vecchio. Un giorno si avvicinò all'albero, passando di lì per caso. L'albero subito chiese, che altro posso fare per te? Oh, è che sei venuto dopo tanto tempo. E il vecchio borbottò. Che altro puoi fare per me? Voglio andare in paesi lontani e guadagnare ancora più denaro. Ho bisogno di una barca per viaggiare. Allegramente l'albero rispose. Ma questo non è un problema, mio diletto. Taglia il mio tronco e fanno una barca. Sono felicissimo di poterti aiutare ad andare lontano. Ma ti prego, ricorda, aspetterò sempre il tuo ritorno. L'uomo porta una sega, taglia il tronco, si costrui una barca e se ne andò per mare. Ora l'albero è un piccolo ceppo. E aspetta ancora che l'uomo ritorni. Aspetta, aspetta, aspetta ancora. Ma l'uomo non tornerà mai più. Perché l'ego va soltanto laddove c'è qualcosa da guadagnare. E ora l'albero non ha più niente, assolutamente niente da offrire. L'ego non va mai dove non c'è interesse. Dove non c'è nulla da guadagnare. È un eterno mendicante, in uno stato continuo di richiesta. E l'amore è carità infinita. L'amore è un re, un imperatore. Esiste forse un re più grande dell'amore. Una sera riposavo vicino a quel vecchio ceppo. E lui mi sussurrò. Quel mio amico non è ancora tornato. Temo sia annegato o che sia perso in uno di quei paesi lontani. Forse non è neppure più in vita. Quanto mi piacerebbe avere sue notizie. Ora che mi avvicino alla fine della mia vita, mi accontenterei almeno di avere sue notizie. Così potrei morire felice. Ma lui non verrebbe neppure se lo chiamassi, perché non mi è rimasto più nulla da dare. E lui capisce soltanto il linguaggio del prendere. L'ego capisce soltanto il linguaggio del prendere. L'amore, invece, il linguaggio del dare. Fine della storiella. Credo che sia stata molto esaustiva. Credo che, io lo ripeto sempre, quando l'amore c'è, non si preoccupa di quanto si piega, di quanto è costretto a inchinarsi, di quanto è costretto, fra virgolette, a subire. Ma non è il termine giusto. L'amore non subisce mai, perché l'amore gode di se stesso. L'amore ti fa lo sacciere come un dono. Perché l'amore ha bisogno di esprimersi. L'amore è giusto. L'altro magari ti ha trattato male, non ti ha dato attenzioni, eccetera. Ma se tu lasci una persona, perché, inavvertitamente, il suo stato di coscienza era quello, spesso ci abbandoniamo di benessi stronzi, perché la nostra anima magari ha bisogno di quello, sono dinamiche strane per chi non riconosce, ma normalmente l'anima cerca proprio la situazione che la mette più in prova, che la prova di più. Quindi, l'altro ti avrà sì trattato male, ma se tu ami, se tu ami, tu non lo percepisci quello di essere trattato male. Quindi, se tu dici, se tu dici, vabbè, ma hai trattato male e ti lascio, ma fai meglio stare zitto, perché l'altro forse ti avrà trattato male, ma tu non amavi. E allora perché accampi pretese se tu non amavi? Perché se avresti amato non avresti accampato pretese. Quindi, se basta una piccola litigata, se basta un piccolo contrasto per mettere in dubbio quello che chiamavi amore, tu non stavi amando. E in base al fatto che tu non stavi amando, non hai nessun diritto di lamentarti. Quando c'è l'amore, non c'è problema che non possa essere superato. L'amore significa prendere per mano una persona e fare insieme quel tratto di cammino fin quando l'amore vi sosterrà. E quando l'amore non vi sosterrà più, ognuno prenderà la sua strada. La vita è più semplice di quello che sembra. Io vi abbraccio tutti. C'ho qua la mia piccola squadra di bandaggi, che forse non ha apprezzato il racconto, perché li vedo tutti parecchio addormentati. Attila! Sì, sì, questi stanno prendendo un caldo, guardate loro. Un grande bacio e sogni randagissimi a tutti, eh. E che i sogni non siano solo sogni, ma siano mete da conquistare in un domani radioso. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti. Grazie.